E' stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune l'avviso con cui l'amministrazione comunale chiede ai titolari di loculi cimiteriali, per i quali sono trascorsi 25 anni dalla stipula o dal pagamento dell'oculo stesso, di esprimere entro il 24 agosto prossimo la volontà di ottenere il rinnovo della concessione cimiteriale scaduta con il pagamento della tariffa prevista dalla delibera di giunta comunale o di rinunciare al rinnovo della concessione cimiteriale scaduta in tal caso verrà disposta l'estumulazione della salma con conservazioni dei resti ossei in ossario comune. Troviamo quanto meno inopportuno, dice il leader di Progetto Siracusa e Zecchia Paolo Reale, che sindaco e giunta non tengono in alcun conto l'atto di indirizzo votato a grande maggioranza nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale contro questa procedura, la cui legittimità resta quanto meno controversa. E consideriamo intollerabile che in pieno periodo estivo si costringono le famiglie siracusane a dover fare i conti anche con questo problema. Pure i consiglieri comunali Castagnino, Vasile e Alota si dicono contrari alla decisione della giunta. È chiaro, dicono che al di là della precisa volontà di fare cassa con la vendita di quei loculi dove non verrà rinnovata la concessione, c'è una volontà politica ben precisa da parte dell'amministrazione comunale di Siracusa di mortificare non solo l'opposizione ma anche i consiglieri comunali della sua stessa maggioranza, quindi l'intero Consiglio Comunale. Continuiamo ad essere contrari a questa decisione della giunta di far pagare coloro che hanno avuto la concessione prima del 27 novembre del 1996.